Musica Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Non so se sto registrando, penso di si perché mi sono spariti di FPS Ah ok, beccati, si sto registrando ragazzi Benvenuti in questo nuovo video E in questo video andremo a utilizzare finalmente quella schifo di lava E magari anche il petrolio se riesco in tempo ragazzi Non lo so, riesco temporeggiando Allora ragazzi, come utilizzare la lava e il petrolio? Allora, io di là, è un lato craft, giusto? Sentite anche voi, quello che sento io, scusate Ragazzi, comincio a laggare qua dentro Direi che devo diminuire un po' il macchinario e dare un po' una sistemata Tipo, ecco, togliere il fuoco inutile E il jet No ragazzi, sono andato di là dalla meccanismo, ho lasciato il jet Che me ne frega tanto ne ho altri Ne ho fatti tipo una, una, no, no, cazzo No, no, li ho buttati, sono stronzo No, è vero, li avevo buttati Eh, sono senza jet pack, ragazzi, sono rimasto un po' inculato Allora, primo vado alla meccanismo a riprendere il jet E il secondo, vi spiego, anzi no, prima vi spiego una cosa E il secondo vado a prendere il jet Ok, ci siamo, ci siamo, ci siamo, allora Cominciamo, scriviamo Better Better fornese, ragazzi Adesso tocca a questa modo Allora, ragazzi, è un utilizzo Un utilizzo Utile per la lava, cioè un modo utile per fare la lava È questo La hair fornese, ragazzi, che adesso andremo a craftare Con molta calmeggiante e calmante Le metto tutte auto-craftate Oh, questa con la nether star Oh mio dio Questa, eh, queste fornaci, ragazzi Sono di una mod che si chiama Better fornese Come potete vedere sotto, vedete Better fornese Questa mod è molto poco conosciuta Ma molto figa Mi piace tantissimo La uso da sempre Ovviamente, pensate Io la prima volta che giocai a Minecraft La prima assoluta giocai in Hunger Games Dopo ho giocato con l'Hunger Games Scoprì Ho scoperto Che esistevano le mod E ho iniziato con alcune mod La prima fu la Bullcraft La seconda fu la Better fornese E la terza fu la Traincraft Quindi fu proprio È proprio il mio inizio su Minecraft Questa mod Ho iniziato proprio da qui Erano le prime cose che facevo su Minecraft Praticamente Non sapevo nemmeno cosa era l'industriacraft Per dire Ho appena cominciato a giocare Quindi non conoscevo Nulla del genere Encode E forse questi li avevo già encodati Non ricordo Sto encodando un po' tutti Magma Cream Encode Perfetto Dovrei aver fatto tutto Ok andiamo alla pagina Vediamo un po' con la vanilla Sì Netherbrick L'ho già encodati Quindi Netherbrick Togliamoli subito Via Torna a posto Nice Clear Ok Allora Qui 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 Ma se li metto Ma sì Ma li metto qui Che mi frega ragazzi Alla fine sono fornace Non è che sia tutto sto gran coso E in più voglio fare gli autocraft No Gli upgrade Li faccio No non li crafto da solo Quindi No lasciamo perdere Andiamo a casa Andiamo a casa Andiamo a casa Andiamo a craftare Ok 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 Siamo Furnice Furnice Craftiamo la nostra Elfurnice Che in teoria sono in grado di craftare Provo vado eh Begin Diamond E si è bloccata la diamond Perché? Perché la nostra Elfurnice Richiede qualcosa Che non conosce La TNT ragazzi Ovviamente la TNT Non gli ho insegnato come si fa Perché io so stronzo Giusto Dov'è il nostro crafting terminal Vediamo un po' di queste parti Missi in materia slimeball Non ho slimeball What? 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 Non ho slimeball Really? No non è possibile Ah ecco Ecco Ferma tutto Ferma Ferma tutto Eh Sempre le cazzate Dove vede io Allora Tutte queste uova Non mi servono a un cazzo Quindi praticamente Via E duplichiamo le slimeball Molto Very nice Sì ma le importi? Tipo Se le Ah ok 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 Abbiamo le slimeball Adesso mi manca solo la TNT Che la andiamo a craftare subitissimo TNT No TNT qua TNT Craft Et voilà Abbiamo la nostra Furnace Hell Poi andrò a mettere la recipe Ragazzi lo aggiungo Anzi andrò a mettere subito Tanto questa Ma aspetta che No io ho anche Nether Brick Non è Nether 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 Che cazzo ho scritto Nether Nether Ecco Neo Ne ho uno Bene Bene Fantastico Meglio di così Uno Che posso voler di più Vai Vai Duplicazione Mi serve un Diamon Diamon Diamons Diamons I need Diamons Diamons Ne mettiamo Otto Bam Nether Brick Infiniti A posto Allora Allora Mentre aspettiamo che fai Nether Bricks Prendiamo la nostra Furnace Che dovrebbe aver finito Spero Eccola qui La grassi La Hell Furnace Ragazzi Una fornace Infernale Hell Furnace Cattivissima E ce ne andiamo Alla zona do craft Non prima però di aver lasciato a caricare la nostra staff of traveling ragazzi Che l'ho lasciata scarica Come un babbo che sono io Babbo che non sono Altro Allora Staff of traveling Rifornimento rapido Ne abbiamo già un'altra pronta disponibile full carica GG al query E sto facendo E sto facendo questo ragazzi Perché vorrei Riattaccare il query Sì Voglio riattaccare il query Solo che il problema è che la lava e il petrolio sono intassati Completamente 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 la lava e il petrolio intassati E non posso fare Ehi Mortaci De quel che Oh Waffan Creeper Ok morto Dicevo Ho la lava e il petrolio completamente intassati Quindi Non posso attaccare il query Perché mi andrà a scavare tutte quelle cose Quindi è un problema Allora 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 Questa advanced factory La togliamo? O la lascio? La togliamo Via Togliamo l'advanced factory ragazzi Per far posto a nostra health furnace Guardate che bella E siccome questo schifo di colore Non mi piace perché è rossa No cambio di colore La metto in tono Questo qui Color upgrade Sì Manca tutto Guarda la roba che serve Sì Vabbè Forse ce l'ho però eh Forse ce l'ho dentro la chest Serve A marrone Ok E il marrone come si fa? Ah col cacao Ok Devo fare il cacao Vabbè Non lo posso fare Vabbè La teniamo di quel colore dai Poi lo faremo questo color upgrade Allora Mi serve Factory upgrade Subito Che si fa con questo Più questo Più factory upgrade Nice Aspetta Forse potrei anche non usarlo Perché l'AME fa in automatico Vabbè Per ora non li uso Adesso quello che mi importa ragazzi È fare queste cose Tranquilli Voi direte Ma che cazzo sta facendo sta roba a caso Tranquilli Adesso vi spiego tutto Il guest tier ce l'ho Sì Nice Oddio Questo posso craftarlo Sapete Fermi Fermi Posso craftare questo Ok Fermi 1 2 3 4 Perfetto Allora mi serve questo Craftato Nice Ve li spiego tutti uno per uno Mentre li installo ragazzi Fatemi craftare Poi questo Guardate Che si chiamano Lì Vabbè Ve li spiego Con calma E poi c'è questo Perfetto Che mi serve per fare questo Mi servono dei lay of ender 1 2 3 Nice Perfetto Craftato E in più mi serve questo Che manca un Hour processing upgrade Mi manca un cosa al centro Che sarebbe Che cosa mi manca La flint Io non ho flint No dai Come faccio a non avere flint L'ho stata tutta Really Ma no Ma dai Ma no Che cosa triste Non ho flint Ho della gravel almeno Spero Nemmeno No dai È tristissima come cosa Non posso non avere un pezzettino di flint Oh mio dio Ma Vabbè Fa niente Quello ne parleremo poi Allora ragazzi E Che dire Questo Questo qui è un upgrade Che a noi Ad un momento Non interessa Allora Allora Vi spiego questa fornace Abbiamo un inventario Guardate Abbiamo la classica fornace vanilla Con Dove mettiamo Il fuel Dove mettiamo l'oggetto da cuocere Dove esce l'oggetto Giusto Fino a qua ci siamo E non ci piove E in più abbiamo questi tre slottini ragazzi In cui noi possiamo andare a mettere Ciò che abbiamo craftato adesso Che sono gli upgrade Vedete Advanced fuel efficiency Liquid fuel Cioè Dirvelo così non significa niente Ve lo traduco Questo significa Potenziamento avanzato Per l'efficienza del carburante Praticamente questo Upgrade Non fa altro che Raddoppiare l'efficacia del carburante Cioè Io se metto un coal Invece di cuocere 8 oggetti Ne cuoce 16 Raddoppia E qual è la differenza fra questo e questo Che questo ha 100.000 usi E questo è infinito Infatti si crafta Vedete con la crema di gaste Che è abbastanza difficile Fra molte virgolette Ma io i materiali C'erò Ora E lo stesso questo Questo si crafta in maniera Difficile Tra molte virgolette Che non è altro che l'upgrade di questo Perché anche questa C'è solo 100.000 usi Ma può essere upgradato Ad essere illimitato C'è infinito E cosa fa questo ragazzi Raddoppia ciò che cuoci Però Solo Degli ore Cioè se io cuocio Un iron ore Escono due iron ore È praticamente Quello che fa la thermal Senza due macchinari Uno solo Sdoppia Altri upgrade ragazzi Abbiamo questi factory Che sono un po' lunghi Da spiegare Che alla fine qui Non mi servono Quindi non ve li spiego Ma praticamente Servono ad impostare L'input e l'output Come la thermal Avete presente Che abbiamo il colore E queste cose qui Ecco possiamo Metterlo anche in questo macchinario Grazie a questo factory upgrade Che ci mette l'input e l'output Dove vogliamo E vabbè Questo invece è il color upgrade Ragazzi Che cambia di colore Alla fornace Tipo da rossa Possiamo farla diventare grigia Come la thermal Per mettere il tema Vabbè ma Non l'abbiamo fatto Perché mi mancano alcuni colori Che adesso andremo a raccogliere Vabbè Magari più avanti Ne parleremo Ok Poi upgrade Io ho fatto anche questi due Ve li sto spiegando per ultimi Ragazzi Ve li lascio per ultimi Perché vi sto tenendo sulle spine Ma Allora Lo storage upgrade Guardate cosa fa Si Premi shift Si clicca con il destro E guardate Raddoppia l'inventario Sia di cottura Sia di ricevimento oggetti Che di output E nice Adesso abbiamo quest'altro ragazzi Liquid full upgrade Guardate cosa fa Aggiunge Un tank All'interno del macchinario Ragazzi Ci aggiunge un tank In cui noi Ci possiamo mettere Ciò che vogliamo E in particolare Oh mio Dio Oh mio Dio Che cazzo È cascato Che cazzo È cascato Avete sentito anche voi Che meteora Che è caduta al cielo Orca paletta Chissà dove è caduta Come si mette la mappa N Chissà dove è caduta Che botta cazzo Era fortissima Mi sa che era un meteorito Di quelli giganti Ok ragazzi Tornando alla spiegazione Dicevo Possiamo metterla come vogliamo Sì però se io Prendo il cavo Ecco la vedo brutta Allora Dove l'ho messo Import Vai Ok Import a stack Allora I cavetti li sposto Li faccio passare così Perché? Perché a me mi serve un testera Prendo un testera ragazzi Perché ci devo mettere E liquido Quindi devo scollegare questo Via Ci metto la frequenza Che dico io Che è Lava out Eccola qui Faccio ok E metto fluid mode receive Guardate Questo è male Praticamente Avevo selezionato Il petrolio Sì ragazzi Smontando la cirita Tutti gli upgrade Non vi preoccupate Non perdete assolutamente nulla E non ho il jetpack Per saltare dietro Capaletta Eh sì ragazzi Avevo selezionato La frequenza del petrolio E mi ha buttato dentro Tutto il petrolio Ma più che altro Aspetta è lava out Come fa uscire il petrolio Andiamo un po' Allora metto Questo Guarda Faccio crash al server Sono sicuro Non è vero Nice pieno di lava ragazzi GG Adesso abbiamo la nostra Hell Furnace Che va a lava E qual è la particolare Di questa fornace ragazzi Perché rossa Odite la fatta rossa Per la lava No Quello che fa questa fornace Se voi andate a vedere Nei miei video vecchi C'è anche uno spotlight Che magari vi metto in descrizione Che vi parlo di questa mod Cambia la velocità di cottura Cioè questo cuoce Una volta e mezzo La fornace normale Questo 2 Questo 10 Questo 25 Questo 50 O 100 Non mi ricordo Comunque tipo questo Cuoce 10 oggetti al secondo Una cosa assurda Che però si fa con la nether star Ragazzi Che è tosta eh Ci possiamo anche metterci a farla Ma è tosta Mi sa che è meglio Che mi spawnano No wither faccio prima Ok Adesso vediamo la funzionalità Prendiamo del glass Ah che non dice Aspetta vediamo una recipe Che ho da cuocere qui Aspetta questo No Che cazzo No Che fail Vabbè Fa niente Non vi preoccupate È un po' fail Quello che ho fatto Ma non è un problema ragazzi Perché Perché L'avete capito L'avete capito Che cazzo di soggetto Non è un problema ragazzi Basta che la rimetto Tanto Le impostazioni si salvano Ok Questa è quella che cuoce Il silicone Vediamo una che cuoce Roba che va in quantità Eccola Questa Questa è quella che cuoce Giusto Sì Questa è quella che cuoce Nice Avete capito Quella era quella crushing Non era quella cottura Quella di merda Ok Aspetta Vai Questo Questo Scollego Via E faccio passare Il cavetto Intorno Mi serve Redstone Energy Conduit Vai Qui Lo scolleghiamo E vediamo un po' Mettiamo tutti gli upgrade Prima con le storage Upgrade Fuel E liquidi E nice Possiamo testare immediatamente Produciamo Della Nether Brick Brick Craft Come si crafta il Nether Brick Ragazzi A cotto Nice Ok E quanta Netherrack ho? 449 Ok Allora c'è un bel po' Di Nether Brick E me ne cuocio Un centinaio Così faccio rendere conto Della velocità Guardate Begin Guardate la velocità Guardate a che velocità cuoce Eh che ne pensate? Not bad eh Veramente not bad Più che altro Mi dispiace che la ME Non stia importando direttamente Perché non sta importando? Ecco ragazzi È il momento di mettere L'upgrade Perché non sta Esportando Ah no Stai a prendere No Non lo sta prendendo La ME non importa ragazzi Not bad Not good This is not good Ok Per rimediare a questo Utilizziamo l'upgrade Che avevo fatto prima io Upgrade Ecco qui Lo utilizziamo Lo mettiamo all'interno Del nostro macchinario Ah no Prima di metterlo Lo attiviamo Guardate in che modo Basta cliccare con il destro Mentre Non si sta targettando nulla Ovviamente nel vuoto E guardate che succede Factory upgrade Ci da tutte le opzioni Che possiamo scegliere Allora Dobbiamo mettere che L'input è da sopra Così non ci sbagliamo Full input Da sotto Left, back, right, top Left, back No È buggato Non c'è Non c'è bottom ragazzi Left, back, right Top No non c'è bottom Vabbè Magari La questione lava È un po' particolare Perché la lava Può entrare anche da sotto Questo fu l'upgrade Riguardo il Il call Adesso Inseriamo E vediamo che succede Cazzo di niente Niente proprio Oh ME Output direction Left Vai Importa Sto preciso Che si fa qua I bruchi Dammi un po' Dammi un po' Sto preciso Io non vorrei che Non vorrei che L'ME prenda solo da destra No Non mi dire I won't believe No Ok L'ME non è compatibile Con questa mod Un'altra possibilità Perché no Potrebbe darsi Proviamo da dietro Ragazzi Stiamo sperimentando Eh Mica si può avere tutto Non riesce ad importare L'M What È veramente possibile Una cosa del genere Non pensavo Potesse avere dei problemi Del genere In questo modo Eppure è sempre stata compatibile Con tutti Magari nelle ultime versioni Hanno cambiato qualcosa Ragazzi tranquilli Non è un problema C'è sempre soluzione Ma voglio solo capire Perché non va Magari va E sto sbagliando io qualcosa Ho messo anche l'auto output In teoria L'auto output Dovrebbe aspirare immediatamente Oh Vabbè Ragazzi Non è assoluto Assolutamente Un problema Perché semplicemente Si risolve Con un attimo Guardate Cioè io Cioè proprio Il problema non si vuole Perché Volevo farlo direttamente Con la ME Ma che problema c'è Allora qui deve esportare Redstone Giusto Sì Sopriamo un po' Così almeno si ricorda Che deve esportarla Vai Ok E io basta che gli dico Di buttare una cesta Guarda Semplicissimo ragazzi Basta mettere una cesta accanto Auto Auto output A left E cioè Sputa automaticamente A sinistra Cioè Aspettate Sta cosa non ve l'ho detta Io non vorrei che vi confondete Ma left Sinistra Vedete qui Output direction Vuol dire uscita Input vuol dire entrata Cioè l'entrata da sopra E l'output da sinistra Ok Fino a qua ci stiamo Non c'è dubbio Ok Se non avete problemi Con la traduzione Basta che cercate su Google Translate Left Cioè left e sinistra C'è poco da fare Ok Vabbè lo rimetto all'interno ragazzi Avete visto come l'output Automatica a sinistra Butta tutto nella cesta Che sta a sinistra E io basta che metto un import Qui sopra Voi là Semplicemente Eh Che ne dite A me piacque come idea A me piacque tantissimo Ok Riproviamo ragazzi Facciamo un'altra prova Con il vetro Che ovviamente ne ho già 2009 Ma ne crafto altro Che cavolo mi ferica Ne crafto un altro 1000 Begin E lasciamolo lavorare Guardate ragazzi La nostra fornace Parte a velocità supersonica E consuma lava Per produrre È interessante questa cosa A me piace molto Perché ti risparmia Il passaggio da macchinario A macchina Cioè non c'è bisogno di fare La dynamo Per alimentare il macchinario Che cuoce E magari duplica anche Invece di fare due macchinari Ne fai solo uno Capito? Restringe Questa è una mod Che ho usato all'inizio A questo punto del gioco Ma io L'ho aggiunta da poco Cioè all'inizio Quando ho iniziato il pacchetto Ancora non c'era Quindi non l'ho potuta far vedere Ma adesso eccola qui ragazzi Perfettamente funzionale Ci sta cuocendo 1000 vetro In pochi secondi Cioè sta andando Molto più veloce Della meccanism Se notate Ovviamente la meccanism Non ho messo l'upgrade Però ne parleremo poi Quindi ragazzi Per questo video è tutto Ci vediamo Ciao a tutti E al prossimo video Ciao a tutti